Sabato 30 giugno a partire dalle 16 il lungomare Caracciolo si colorerà di arancione per ospitare la prima edizione dell'evento Aperol Happy Together Live, protagonista all'Aperol Spritz, aperitivo italiano per eccellenza, al centro di un format originale accompagnato dal concerto di tre grandi artisti del panorama musicale italiano. È un nuovo format musicale che inauguriamo quest'anno che ha proprio l'idea di celebrare un po' l'inizio dell'estate e un po' dietro questo concetto che poi è la nostra line di marca, come la chiamiamo, dell'Happy Together, cioè che celebra la felicità del stare tutti insieme. Per questo abbiamo deciso di organizzare un concerto musicale con Elisa, Cosmo e Marrakesh, quindi tre stili completamente diversi tra di loro ma che sono i vertici anche dell'attenzione nazionale. E questi stili diversi ci permettono proprio di veicolare un messaggio di come l'unione anche di mondi diversi, culturali e musicali, poi porta invece a una confluenza e da un arricchimento reciproco. L'evento, che si estende dalla Rotonda Diaz a lungomare Caracciolo fino a Viale Dorn, vuole essere un'occasione di condivisione e socialità ed avrà come ospite d'eccezione Francesco Facchinetti. Un evento che ha scelto Napoli come la meta naturale nel quale aprire uno scenario di rilievo nazionale per le sue caratteristiche, per l'ospitalità e perché questa è una città frizzante come frizzante e l'Aperol Spritz. Quindi una giornata la quale non si può mancare il pubblico dei giovani ma devo dire anche il pubblico di chi giovane non è perché siamo di fronte a qualità, simpatia, intrattenimento, piacere.